Com'è stata questa esperienza Sanremese? È stata molto bella, mi sono divertita tantissimo, è stata liberatoria, non ho avuto nessun tipo di paura o ansia e ho pensato solo a cantare e a divertirmi, quindi bello, molto bello. Cosa ti ha detto Emma appena uscita dal palco? Ti ha mandato qualche messaggio? Ci siamo sentite al telefono, era felice, eravamo felici entrambe, quindi ci siamo... Ah, che bello, che è andata bene, non ho fatto cazzate, queste cose qua, insomma. Allora, giungi qua a Giuliano, che è praticamente vicino a Napoli, dove ci sono tutti i tuoi fan napoletani, che accoglienza ti aspetti? Beh, diciamo, dato che comincia ad essere sud, penso calorosa, ma io sono così, sono molto affettuosa, quindi spero che ci sia affetto e basta, in realtà. Nella semplicità, no? Bello, l'affetto. Amore, 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 amo via! Chiudo gli occhi, non mi importa, ma tu portami via! Perché vi piace tanto Elodie? Perché è magnifica, è brava, è dolce, i suoi testi sono meravigliosi. Cioè, è bravissima, la sua voce straordinaria, che dire? Da quanto tempo la segui? Tipo da amici. Amore, 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 amore mio, per tutti i giorni mi svegli e tu sei già andato via, ancora! Qual è il tuo consiglio ai giovani cantautori, ai giovani cantanti, che decidono di intraprendere questo percorso artistico? Beh, intanto grazie per giovanissima, già mi sei molto simpatico. Beh, consigli che servirebbero tanti ancora a me, anch'io, insomma, ho appena intrapreso questa carriera. In realtà il consiglio che posso dare, ma umanamente parlando, non musicalmente, è quello di sempre di mettercela tutta, ma per qualsiasi mestiere. Poi non posso dare grandi consigli, perché appunto, come ho detto prima, sono le prime armi. Un saluto a tutti gli amici di Teleclub Italia 98. Un bacio, ciao! Un saluto a tutti!